Hey folks! Benvenuti in questo nuovo vlog di Posh Privateer. Visto che siamo tutti un po' casalinghi, ci siamo messi a fare qualcosa di particolare. Oggi l'Aurelio si mette a fare meccanico, già più o meno. Praticamente andiamo a sistemare una full cross country, la E01, in 01E, mi sono sbagliato scusate, in qualcosa di un po' più cattivello. Vediamo cosa si combina. No, 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 no. No, no, no. Grazie a tutti. 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 Sono veramente imbarazzante a sistemare le biciclette, quindi vediamo un po'. Comunque, step 1 fatto. Tra l'altro, ma sta sella da così... è in tinta con la bici. ci siamo? Ci siamo? Il mezzo è pronto. bello, bello. è in tinta con la bici è in tinta con la bici. che va a allenarsi. che va a allenarsi. che va a allenarsi. che cosa stai insieme? dammi la mia latta. buon po' la bici, buon po' è in tinta con la bici. Grazie.